E' lei il magistrato? Mi si senti per piacere. Io non ho fatto niente, sono il nocente. Ma non è stato lei che uccidono in un suo festo? No, a me che si uccidono così le persone. Ma ci hai dedicato l'altra sera a Magna Grecia, no? Si, abbiamo fatto ammazzate, ma le ho perse solo io. Ma questo non significa niente, potresti averlo aspettato da un'altra parte per tirarli la coltellata, no? No, dottore, quando accoppavo un annunzio, io stavo da Adele. E chi? Adele Cammarota, la proprietaria del negozio di vestiti da uomo da corso. Ancora con questa storia? Ho già fatto interrogare la signora Cammarota da uno dei miei uomini. Dice che ha dormito a casa del padre e l'amoroso non l'ha proprio visto. Bugiarda, non è così! Intanto guardi che abbiamo trovato sul suo furgone. Dottore, ma quello di usare attagghi i costolei? Certo, come no. Perché avete detto con un suo festo? Per mia sorella Milena. Trattava male. Si approfittava del bene che gli voleva. Dottore, è una conda sullo minaccio. È nato conda. È per dare libertà. Perché io non come annunzio festa, poi. Che facciamo, dottore? Sto tratteniamo? Sì. Dottore, per piacere. Io ti la fai a. E la parte in Germania stamattina. Che fa una consegna? O per scappare. Dottore, ma io sono nocente! Ma come ve le dici, oh? Portatelo via. Sto, ok. Sì, ma una cosa forse dovresti... Grazie.